Vanno un po' tenuti presenti in questa situazione e la condizione internazionale. Di questo abbiamo parlato poco, soltanto parlando di Stalin e dell'Ungheria. Ma in realtà, dopo la crisi dei missili a Cuba, dopo aver sfiorato la terza guerra mondiale, e peraltro una guerra nucleare, sia Kennedy sia Khrushchev si sono resi conto che occorreva impostare il rapporto tra le due superpotenze in una maniera un pochino diversa. Questo elemento ha determinato quella che venne chiamata la distensione. Intanto negli Stati Uniti c'erano state due presidenze democratiche, prima Kennedy e poi Johnson. Nell'Unione Sovietica c'era Khrushchev che non aveva intenzione di pestare troppo l'acceleratore sull'antagonismo tra l'Unione Sovietica e le altre potenze, come in qualche modo invece Stalin aveva fatto. E questo permise un rapporto un pochino meno pesante, anche se poi ciascuna delle due superpotenze continuavano con gli esperimenti nucleari, poi c'è stata la gara su chi arrivava prima sulla Luna, quindi c'è stata anche la guerra fredda si è trasferita anche nell'atmosfera, in qualche modo. E sicuramente ha influito in questo anche il cambio di politica del Vaticano. Quando a Pio XII succede Giovanni Venitalesimo, non subito ma nel giro di un paio d'anni cominciano a cambiare anche delle situazioni. e non cambiano dal punto di vista politico, perché tutti sappiamo, tutti ricordano la scomunica combinata ai comunisti nel 1949, dopo le elezioni del 48, attenzione, spesso si confondano, nel 49 ci fu la scomunica di Pio XII nei confronti dei comunisti e dei loro alleati ma questa scomunica fu ribadita dieci anni dopo nel 1959 con Giovanni Venitalesimo non solo estendendola agli alleati ma anche a coloro che casualmente si fossero messi a collaborare con i comunisti anche da parte di altri partiti non alleati. Quindi ancora più ampia. Quindi non ci fu da parte di Giovanni Venitalesimo una posizione subito più aperta nei confronti dei socialisti. Venne un po' più tardi. Ma ci fu subito in qualche modo l'idea che venne fuori attraverso il Concilio Vaticano II che in qualche modo il popolo contasse più dell'istituzione. Anche questo in qualche modo fa parte di quel discorso su 68 che abbiamo fatto. L'individuo più importante dell'istituzione. Io penso che le persone che hanno i capelli bianchi si ricorderanno che una volta l'altare era rovesciato in chiesa. Cioè l'altare, il prete guardava il Santissimo come allora si diceva, cioè il tabernacolo dove c'erano le ostie e dava le spalle ai fedeli. Ogni tanto si voltava Dominus Bobiscum e quelli rispondevano. E poi si rivoltava e continuava la messa. Con una riforma che incomincia già da Giovanni XXIII come premesse ma si sviluppa con Paolo VI c'è una rivoluzione copernicana è il caso di dirlo del rapporto tra fedeli e chiesa. L'altare, voi se andate nelle chiese molto belle, antiche trovate l'altare, quello tradizionale in fondo e poi gli hanno messo un tavolino davanti o una cosa simile che serve come per celebrare la messa. Perché a questo punto il sacerdote ha le spalle al tabernacolo e guarda i fedeli. Viene tolto il latino viene introdotto l'italiano quindi che cosa vuol dire tutto questo? Vuol dire tentare di coinvolgere in maniera più vivace, più piena il popolo dei fedeli l'ecclesia è la comunità quindi la chiesa è in realtà comunità se ci sono delle persone riunite nel mio nome quella è chiesa dice Gesù quindi a un certo punto c'è l'idea di non lasciare ieraticamente il sacerdote davanti al tabernacolo che dà la spalla ai fedeli ma è esattamente il contrario. questa cosa viene fatta anche con un discreto supporto teologico ma non necessariamente per ragioni politiche ma tuttavia se noi pensiamo a una serie di situazioni che si vengono a creare negli anni 60 nel mondo cattolico troviamo che c'è qualcosa che sta cambiando anche lì cioè come nel mondo comunista c'è una contestazione della struttura tradizionale del PC in nome di idee alternative completamente nuove questo succede anche nel mondo ecclesiastico nel mondo della chiesa ci sono i cattolici del dissenso per esempio che cominciano a venire fuori a metà degli anni 60 e io ricordo a Torino c'era la comunità del vandalino Don Mazzi a Firenze aveva l'isolotto ecco non me lo ricordavo l'avevo scritto Don Franzoni a Roma San Paolo quindi c'erano dei momenti di contestazione di carattere teologico di carattere politico c'è in quel periodo la teologia della liberazione in America Latina per cui si sostiene che non si può continuare a perdonare il nemico quando soprattutto è un nemico che affama la popolazione in America Latina si comincia a maturare il concetto che si possono prendere le armi contro il nemico c'è una violenza legittima che la ne la popolora un progresso di Paolo VI ne altre encicliche ammetteranno mai ma che comunque si diffonde abbastanza abbastanza in maniera evidente Don Milani la lettera a una professoressa il discorso del rifiuto delle autorità dello Stato Don Milani dice perché andate a fare il militare perché si combatte perché c'è un'azione molto forte la lettera l'avete sicuramente letta è di una durezza incredibile ammantata da una visione religiosa ma sotto a una durezza estrema ecco tutto questo va tenuto presente perché il 68 è anche Don Milani il 68 è anche la contestazione di preti operai che lavorano nelle fabbriche che erano nati come cappellani nelle fabbriche ma adesso sono diventati più a sinistra degli operai in molti casi